Sono partiti stamani a Pescara i lavori di realizzazione della strada pendolo mezzi ed operai della società Cogema di Chieti a lavoro dalle prime ore di questa mattina per realizzare l'importante arteria che collegherà la periferia con il centro della città. I lavori ha sottolineato il sindaco Carlo Masci intervenuto stamani sul cantiere allestito tra via Sandonato e via Lento dureranno circa otto mesi e prevedono un impegno finanziario di oltre 1 milione 400 mila euro. Questo è l'inizio di un lungo lavoro che porterà questa strada fino alla Tiburtina per collegare questa parte della città all'altra per arrivare fino all'ospedale in maniera diretta. Il progetto, aggiunto ancora il sindaco Masci, prevede la realizzazione di una strada di quartiere composta da careggiate indipendenti separate da spartitraffico, un marcia a piede pedonale collocato in entrambe le careggiate, nonché una pista ciclabile a doppio senso di marcia, due rotatorie poste agli estremi del tratto stradale del progetto, oltre alla rete sotto servizi. Noi non soltanto facciamo un'arteria importantissima per la viabilità, per la mobilità, per rendere più fluido il traffico ma soprattutto per rendere più sicura la città perché questa strada entra dentro quartieri difficili, in zone complesse e sicuramente una strada, un'arteria importante migliorerà non soltanto la viabilità ma anche le condizioni di sicurezza perché più gente passerà su questa strada e meno delinquenza ci sarà. Nei prossimi mesi, aggiunto infine il sindaco, si procederà alla definizione dell'iter che interessa gli altri due tratti stradali dell'intervento. Non ci sarà soluzione di continuità, nel senso che noi completeremo questo intervento, immediatamente dopo proseguiremo con l'intervento che arriverà fino alla Tiburtina e sarà un altro elemento fondamentale perché in quell'area oggi abbandonata ci sono situazioni di degrado assoluto che non possiamo accettare e poi proseguiremo andando fino a via Pantini e anche lì ci sarà l'intervento, il terzo intervento del pendolo. Quindi parliamo di pendolo 1, pendolo 2, pendolo 3, una viabilità completamente nuova, sicuramente migliore, sicuramente una garanzia per la città, per il miglioramento generale delle condizioni della nostra città.